Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo. Per ogni altro uomo. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.